A Teramo la CGL e la CISL denunciano le difficoltà riscontrate nel servizio esternalizzato legato alle scuole dell'infanzia del comune, che coinvolge circa 40 lavoratrici e lavoratori tra educatori, assistenti e personale ausiliario, costretti a vivere una situazione di incertezza e precarità perché ad oggi non sanno se e come continuerà il loro rapporto di lavoro dopo il 31 agosto 2024, data di scadenza dell'attuale appalto. Per questo motivo il sindacato ha chiesto al comune di Teramo di garantire la continuità del servizio e il rispetto dei diritti e dei lavoratori che svolgono un'attività fondamentale per la comunità. Denunciamo due cose gravissime. La prima è un'incertezza sul futuro delle lavoratrici dei servizi esternalizzati, quindi chiaramente a giugno scade un bando e non sappiamo che fine fanno queste lavoratrici perché non sappiamo che fine fa questo servizio. Come per ogni bando di gara d'appalto, come per ogni servizio pubblico, la CGL ha chiesto un incontro al comune. Peraltro l'ultimo codice degli appalti, se c'è una novità rispetto a quello precedente, è esattamente quella che prevede il confronto tra le parti proprio prima di un servizio, di un bando di gara di un servizio. Ed è a dell'incredibile quello che c'è stato risposto. Cioè in realtà per un mese non abbiamo ricevuto risposta, dopo un sollecito la risposta è stata che ci negano il confronto, è la cosa ancora più grave e che sostanzialmente ci minacciano di non fare più richieste perché questo potrebbe turbare un bando di gara, che per me è di una gravità inaudita. Mai c'era capitata una cosa del genere, devo essere sincero, nemmeno nel più piccolo comune della provincia di Tero, ma credo a livello nazionale sfido a trovare un altro comune dove si è successa una cosa del genere. Cioè sostanzialmente minacciare un'organizzazione sindacale dicendogli che sostanzialmente potrebbe turbare un bando di gara in virtù della trasparenza, della lealtà, della reciproca concorrenza. Cioè sostanzialmente si sta minando la libertà dell'organizzazione sindacale che deve assolutamente chiedere non solo il confronto di un bando di gara, ma per un servizio pubblico. La CGL quindi lamenta l'assenza di dialogo e di confronto da parte dell'amministrazione comunale, che ha respinto le richieste di incontro avanzate dai sindacati. Per questo motivo le organizzazioni dei lavoratori hanno annunciato l'avvio della protesta. Andiamo alla procedura di raffreddamento perché voglio informare il prefetto di quello che è successo e in più andremo anche in consiglio comunale se questo non basta.